Buonasera, sono Gabriella Raimo, il dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Carducci Volta Pacinotti di Piombino che ha tre sedi. Il liceo Carducci e l'Ipsia Volta in Via della Pace, il Liti Pacinotti in Via Pacinotti. È per questo che il saluto, diciamo così, ai genitori che oggi interverranno alla scuola aperta per conoscere la nostra offerta formativa e le aule speciali, i laboratori dove si attua l'attività di studio dei nostri ragazzi mi sono impossibilitata a poter essere in tutte e tre contemporaneamente. Questo è il motivo di un saluto, diciamo così, telematico. Il liceo Carducci, l'Istituto Professionale Volta e l'Iti Pacinotti offrono un quadro completo dell'istruzione superiore in questo momento in Italia. Si possono seguire dei percorsi sia liceali dal liceo classico al liceo delle scienze umane, al liceo scientifico, al liceo delle scienze applicate, al liceo artistico e quest'anno al liceo linguistico e quest'anno la New Entry, il liceo musicale e preparandosi a un percorso che avrà uno sbocco naturale negli studi universitari, ma che anche con un diploma che si consegue al quinto anno di studi può portare a dei lavori di soddisfazione o perlomeno alla formazione di ragazzi che anche se intraprendono poi dopo un anno di pausa il percorso universitario hanno comunque una buona formazione sia personale che culturale. Il percorso del professionale e del tecnico sono sempre stati dei percorsi più finalizzati a un inserimento immediato nel mondo del lavoro. L'Istituto Tecnico Pacinotti offre i percorsi di meccanica, meccatronica, elettronica ed elettrotecnica e dall'inizio dell'anno scolastico in corso è stato attivato il percorso di chimica, materiali e biotecnologie, rivolto soprattutto agli studi per il mantenimento di un ambiente rispettando il più possibile l'ambiente che ci circonda. È rivolto a tutti quei ragazzi che hanno intenzione di proseguire i loro studi nel settore chimico e appunto nel settore ambientale ed è fortemente, fra virgolette, consigliato alle ragazze più di un percorso meccanico, meccatronico e un po' meno forse di elettronica. L'Istituto Professionale Volta prepara i ragazzi nel settore della manutenzione e assistenza tecnica, manutenzione e assistenza tecnica di veicoli e apparati in generale. È un percorso quinquennale, però al terzo anno, dopo i primi tre anni è possibile conseguire la qualifica, una qualifica regionale di tecnico meccatronico dell'autoriparazione. È una qualifica non statale, comunque ha una valenza importante soprattutto per l'inserimento immediato nel mondo del lavoro. La nostra offerta formativa si arricchisce da, è stata arricchita da attività che vengono fatte continuamente e delle quali spesso si trova notizia sulla stampa, quindi sicuramente qualcuno avrà saputo e delle Olimpiadi di matematica e del premio Minichino che è un premio letterario e dei risultati nei concorsi che vengono fatti soprattutto relativamente a temi quali la sicurezza stradale, il rispetto dell'ambiente, concorsi importanti, quale può essere stato, impresa in azione nella quale l'anno scorso abbiamo raggiunto la seconda posizione in Italia inventando fra virgolette un apparato che poteva rilevare la presenza di polveri sottili nell'aria e tutti questi momenti che portano poi, che si concludono poi con la partecipazione o con la realizzazione di qualche manufatto vedono coinvolti di solito ragazzi dell'uno o dell'altro settore, quindi è molto facile vedere insieme durante lo svolgimento di un progetto ragazzi del professionale insieme ai ragazzi del liceo, insieme ai ragazzi dell'I, che questa è praticamente la forza del nostro istituto in quanto le professionalità che ci sono al suo interno consentono di sviluppare tante azioni e di fare quindi una grossa sinergia per una preparazione completa veramente a 360 gradi di un ragazzo, dal settore liceale che dà delle competenze culturali molto particolari, molto specialistiche, però che si uniscono nel settore professionale e tecnico a competenze più pratiche che non sono sicuramente da meno delle altre per quello che riguarda la completezza di una formazione. Io vi invito a frequentare i laboratori che ora verranno attivati in tutte e tre le sedi dove ovviamente in ogni sede verrà privilegiato l'aspetto caratteristico dell'indirizzo. Frequentate questi laboratori e i ragazzi valutino le loro inclinazioni alla luce di quello che viene offerto. Grazie.